Benvenuti su Asset Management, la trasmissione di Le Fonti TV. Oggi parliamo delle strategie finanziarie sostenibili nel 2020 e ne parliamo con Claudio Campesi, responsabile investimenti di SCM Sim. Benvenuto. Sì, grazie, buonasera, è un piacere essere qui con voi. L'anno scorso è stato un anno in cui i mercati finanziari hanno avuto delle performance molto positive, sia i mercati azionari e anche i obbligazionari, complici degli istituti centrali, le banche centrali che hanno tenuto i tassi molto bassi, addirittura anche sotto zero, e poi anche il rallentamento delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina che hanno ridotto la volatilità sui mercati. Vediamo adesso il 2020 come si è aperto e quali sono le prospettive. Sì, dunque, come diceva bene lei, l'anno scorso è stato sicuramente un anno molto positivo per tutte le asset class, sia azionari che obbligazionari. Le banche centrali hanno sicuramente giocato un ruolo di primo piano. Il fatto che sia sano o non sano come politica, mantenere i tassi così bassi, lo vedremo probabilmente negli anni. Il fatto sta che l'anno scorso sicuramente tutte le asset class sono andate molto bene. Arriviamo da performance attorno al 27% per i mercati azionari globali, con punte del 35% per il mercato tecnologico statunitense. Se andiamo a vedere complessivamente cosa hanno fatto i decennali dei titoli di Stato, vediamo che generalmente sono scesi i 70 basis point, per cui ottime performance anche sul lato dei tassi di interesse. C'era da aspettarselo con le banche centrali e ovviamente a seguire tutto il mercato del credito, più o meno senior e più o meno di elevato standing creditizio, per cui è credito normale e credito a yield. Per capire cosa succederà quest'anno, non possiamo ovviamente non partire da quello che è successo l'anno scorso, per cui lo scenario è sempre lo stesso. Le banche centrali sono molto supportive rispetto al mercato e probabilmente rimarranno così per tutto l'anno. I cicli economici sono differenti tra Stati Uniti ed Europa, con gli Stati Uniti che sono più avanti nel ciclo. Sicuramente questo è il ciclo storicamente più lungo, per cui un po' di timori sulla tenuta ci sono. È anche vero che però con la Fed che continua a supportare il mercato e con l'economia che anche dal punto di vista del mercato del lavoro continua a crescere negli Stati Uniti, ci sono ancora prospettive di crescita, probabilmente non elevate come quest'anno, ma i mercati azionari potrebbero avere una buona performance anche quest'anno. Stessa cosa anche se in una fase del ciclo differente dei mercati europei. I mercati europei sono rimasti leggermente indietro rispetto ai mercati americani, ma anche in Europa la banca centrale continua a supportare l'economia, in questo caso con tasse addirittura negativi, ma oltre al tasso di riferimento non vanno dimenticate tutte le operazioni straordinarie che ha fatto la BCE, quindi il TLTRO, tutte le politiche che sta facendo sul tiering per i tassi alle banche, per cui sicuramente ancora supportiva e questo potrebbe favorire anche in Europa il mercato azionario e obbligazionario. Non da ultimo i mercati emergenti, che in una fase di crescita moderata dell'economia, come è stato l'anno scorso e come ci aspettiamo e ci aspettiamo quest'anno, potrebbero beneficiare di una crescita, ovviamente dovrebbe essere una crescita superiore rispetto ai mercati già sviluppati, comunque una crescita sostenibile, il tutto in una situazione di, come diceva bene lei, bassa volatilità. Perché? Perché le banche centrali ovviamente sterilizzando l'effetto dei tassi hanno abbassato la volatilità un po' su tutte le asset classi. Anche le tensioni internazionali comunque sono state contenute? Sì, assolutamente. All'inizio di quest'anno abbiamo visto nascere, un crescere delle tensioni in Medio Oriente che sembrano essere rientrate. Le tensioni dal punto di vista politico in Medio Oriente non sono ponderabili, nel senso che gli investitori non sono in grado di prevedere cosa succederà. La situazione sembra rientrata e tutti in realtà si auspicano che rientri, per cui generalmente quando tutti si auspicano una cosa probabilmente andrà in quella direzione. L'anno scorso è stato anche l'anno della cosiddetta trade war tra Stati Uniti e Cina, dopo domani ci dovrebbe essere la firma della fase 1, per cui le tensioni da quel punto di vista sembrano affievolirsi anche sotto questo aspetto, per cui il quadro macro è abbastanza incoraggiante. 2020 sarà un anno particolare però perché è l'anno delle elezioni negli Stati Uniti, per cui ci saranno dei turning point durante l'anno che andranno seguiti. Ad aprile avremo le primarie negli Stati Uniti, fino ad arrivare poi all'autunno in cui avremo le elezioni del Presidente. L'impeachment possibile di Trump potrebbe iniziare già da febbraio, bisognerà vedere se la controparte politica vorrà lanciarsi in questa direzione per attaccare Trump oppure no. È da segnalare anche a marzo sul fronte cinese il congresso del Partito Popolare cinese. Questo è interessante soprattutto per vedere i target che si daranno, perché come sappiamo la Cina ci ha abituato a dare dei target e raggiungerli sostanzialmente sempre, per cui il target di crescita che verrà indicato sarà probabilmente quello che formalmente riusciranno a raggiungere. Per cui è interessante vedere anche che target di crescita si daranno. Quindi però possiamo dire che anche quest'anno i mercati finanziari sono più che altro trainati dai comportamenti degli Stati Uniti. Assolutamente sì, ovviamente il mercato statunitense è il più liquido, è quello che attira più capitali, è quello più solido dal punto di vista macro, per cui sicuramente saranno trainati dal mercato statunitense. Bisognerà vedere poi le performance effettivamente dove si riusciranno a fare in questo 2020, perché se è vero che ovviamente i mercati statunitense sono quelli che tra in un punto di vista macro, ci potrebbe essere anche un po' di dispersione tra i vari stili di investimento, tra le varie valute, tra i vari mercati, tra i vari settori. L'anno scorso c'è stata anche una buona variabilità tra i vari settori, per cui non tutti i settori hanno performato bene, gli energetici hanno performato peggio rispetto a tutti gli altri settori, sono andati molto bene altri settori, i bancari, soprattutto in Europa, hanno performato ma non in maniera così incredibile. Per cui è uno scenario interessante, sicuramente sarà un anno in cui ci saranno delle sfide da affrontare, però è un anno in cui ci sentiamo di essere costruttivi, in questo senso. Vediamo se questo qui è lo scenario descritto, vediamo dal punto di vista invece del mercato azionario e del mercato obbligazionario. Sì, allora come dicevo, lo scenario è sempre di tassi bassi, per cui è ovviamente impensabile puntare tutto sull'obbligazionario, perché? Perché gli investimenti in obbligazioni denominate alla nostra valuta, cioè in Euro, hanno dei tassi molto bassi, poco soddisfacenti dal punto di vista del rendimento a scadenza. A mio modo di vedere un'allocazione 50-50, quindi un'allocazione bilanciata tra azionario e obbligazionario, con degli spostamenti durante l'anno e con la scelta di determinate tematiche, potrebbe risultare vincente. A bocce ferme ovviamente il mercato azionario ha maggiori prospettive rispetto a quello obbligazionario, perché il mercato obbligazionario oramai ha i tassi a zero, non può, o meglio, può ancora comprimere un po' gli spread sui high yield, che infatti rimangono interessanti, ma comunque non più di tanto in teoria, mentre il mercato azionario ovviamente ha un upside molto più elevato. Naturalmente sono due cose molto diverse. Oramai si è arrivati a pensare al mercato azionario e obbligazionario come fossero una cosa quasi simile, perché i tassi sono a zero, per cui il buffer che era costituito dalla cedola dell'obbligazione ormai non esiste più, come nelle azioni, però sono comunque due mercati differenti e un'allocazione bilanciata potrebbe sicuramente beneficiare un investitore, sia privato che istituzionale. Per cui un'allocazione bilanciata secondo me ha sicuramente senso, sul fronte azionario, a mio modo di vedere, potrebbe aver senso quest'anno ridurre il sovrappeso sul mercato statunitense a favore di quello europeo. L'anno scorso sostanzialmente tutti gli investitori avevano un leggero sovrappeso sul mercato americano e un leggero sottopeso o un equal weight sul mercato europeo. Quest'anno potrebbe essere un anno in cui questo turnover tra Stati Uniti ed Europa funziona, per cui si potrebbe ridurre un pochettino il sovrappeso del mercato statunitense. Anche in funzione del fatto che il mercato statunitense è stato trainato in grandissima parte dal Nasdaq, che ha avuto una performance attorno al 35%, se ci ricordiamo che i mercati globali equiti hanno avuto il 27%, si capisce che la performance dei titoli growth americani ha costituito un punto di eccellenza dello scorso anno. Potrebbe aver senso quest'anno ribilanciare un pochettino, per cui tornare a pesare quasi in maniera equivalente il mercato americano e il mercato europeo. Riguardo al mercato obbligazionario c'è anche il fatto anche dei mercati emergenti. Assolutamente. I mercati emergenti sono, in uno scenario che è quello che stiamo descrivendo, di una crescita moderata, sicuramente sono interessanti su entrambi i versanti, sia azionario che obbligazionario. A mio modo di vedere sono forse più interessanti sul lato obbligazionario. Perché? Perché nei mercati emergenti è ancora possibile investire a tassi di interesse molto interessanti, senza prendersi dei particolari rischi di credito. Mi spiego meglio. Se pensiamo a valute come il peso messicano, ad esempio, che è una valuta che l'anno scorso è rimasta abbastanza stabile, quindi con poca volatilità della valuta nei confronti dell'euro, ma anche del dollaro, con una situazione politica abbastanza stabile. È uscito, noi ricordiamo il Messico, da tutta la questione legata alla rinegoziazione del NAFTA, che influireva ovviamente con gli scambi con gli Stati Uniti. Il tasso di interesse che si riesce a spuntare in un'obbligazione sovranazionale, quindi in un'obbligazione della Banca Europea di Investimento, la Banca Internazionale di Sviluppo, quindi la BEI, EBRD, IBRD, quindi istituti sovranazionali con un merito creditizio elevatissimo, in AAA, perché ovviamente non c'è un rischio di credito di questi istituti. Una BEI, dicevo appunto, anche a uno o due anni ha un interesse annuale del 6-7%, per cui confrontata con noi investitori europei che dobbiamo investire all'1-2%, sicuramente interessante. Ecco, ovviamente da quel punto di vista va considerata la volatilità della valuta, perché se è vero che non c'è rischio credito dell'emittente, o se è sostanzialmente trascurabile essendo in AAA, è altrettanto vero che la volatilità della valuta va a incidere e un crollo della valuta estera ovviamente inciderebbe negativamente sulla nostra performance. Da questo punto di vista bisognerà essere abbastanza selettivi. Basti pensare a quello che è successo l'anno scorso nel mercato turco, quindi a quello che è successo alla lira turca. I tassi di interesse in Turchia sono elevatissimi, sono arrivati a raggiungere il 20% annuale, ora sono leggermente più bassi, per cui sono tassi in doppia cifra, però la valuta turca l'anno scorso si è svalutata è il 30%, per cui un investitore che a inizio anno scorso investito in una BEI, in lira turca, avrebbe ottenuto un 20% magari di tasso di interesse a fronte di un 35% della svalutazione della valuta. Quindi questo è a livello un pochino di più di scommessa. Assolutamente, è una scommessa ovviamente con un razio salis, cioè uno analizza la situazione macroeconomica, analizza anche la situazione finanziaria globale, se noi pensiamo che tutte le banche centrali sostanzialmente hanno tassi molto bassi, le cosiddette politiche di currency trading, o comunque currency overlay, in cui gli investitori europei o americani hanno possibilità di prendere a prestito del denaro, quindi anche senza avere degli asset, prendono a prestito del denaro a un tasso basso, che è quello della loro economia, e lo vanno a reinvestire a un tasso più elevato, che quello delle valute emergenti. Col fatto che la banca centrale ti sta dicendo che manterrà i tassi bassi, tu ti garantisci un funding a tasso basso, quindi so che prenderò a prestito a tasso basso e andrò a investire a un tasso alto. Queste politiche ovviamente vengono fatte da investitori istituzionali, e però la spinta a fare queste politiche, a mettere in piedi queste posizioni, è ovviamente tanto più forte quanto più è basso il tasso di interesse della valuta in cui ti indebiti. Per cui finché la Fed mantiene i tassi bassi, l'Europa mantiene i tassi bassi, gli investitori istituzionali hanno una convenienza a montare queste posizioni in valute emergenti. Per cui anche seguire i flussi, l'anno scorso è stato un mercato molto guidato dai flussi finanziari, più che dai fondamentali. Anche seguire i flussi ti mette a riparo, comunque ti permette di seguire l'andamento del mercato, sapendo che non sei contrario. Una volta si diceva don't fight with the Fed, o comunque sui libri di finanza si studiava don't fight with the Fed. Ora non è più esattamente così, ma quasi nel senso che non devi più combattere contro la Fed, non devi neanche combattere contro i mercati, contro i flussi. Per cui una parte dell'investimento obbligazionario può essere destinata a paesi emergenti attraverso forme o di single bond sovranazionali, escludendo il rischio di credito, oppure anche ricorrendo a degli ETF obbligazionali, ci sono degli ETF che replicano degli indici obbligazionari di valute emergenti. Quindi queste ipotesi e strategie comunque sono valide in un contesto in cui si mantengono i tassi bassi? Assolutamente sì, il fatto che i tassi verranno mantenuti bassi non lo dico io, lo dice la Banca Centrale, ovviamente. Poi anche qua ovviamente non è pensabile costruire un portafoglio in cui tutta la mia componente obbligazionaria viene destinata a investimenti in valute emergenti. Non ha assolutamente senso, perché il rischio ovviamente è più elevato rispetto a investire nella propria valuta. Per cui questa è sicuramente una strategia che può essere messa a fianco di una strategia obbligazionaria che preveda magari l'investimento, a mio modo di vedere, sul lato europeo, in subordinati corporate, quindi i cosiddetti ibridi corporate. Sono molto interessanti e ne stanno emettendo anche qualcuno. Mi viene in mente degli ultimi che sono stati emessi in Fineon. Oppure anche in ambito bancario qualche senior può avere senso. Un nome non molto bello, non molto famoso, con non una grande reputazione come Banca Montepaschi, in realtà c'è un'obbligazione senior preferred, quindi la migliore tra i senior di Montepaschi, che ha un rendimento, aveva un rendimento, ora il mercato era nato in meno fattore pricing, ma aveva un rendimento molto interessante, perché era due anni e rendeva attorno a due punti e mezzo. E il rischio era ovviamente legato a Montepaschi, ma era un'obbligazione senior preferred, ricordiamo che Montepaschi in realtà è dello Stato italiano, per cui c'era anche questa disgrazia tra quanto rendeva il BTP pari scadenze e quanto rendeva Montepaschi, per cui può avere anche senso quello. Sul fronte invece statunitense, secondo me non ha tanto senso andarsi a prendere obbligazioni a yield, nel senso che i tassi in America sono più alti, soprattutto per noi investitori europei, per cui si riescono a prendere anche obbligazioni di emittenti corporate con un elevato stand in creditizio, con un rendimento interessante, attorno a due punti e mezzo. Quindi io propenderei per una strategia obbligazionaria di questo tipo, con un'attenzione a un po' di valute e anche attenzione magari a qualche tema particolare, come i green bond, che sono un tema che sta andando molto, anche qua in chiave più tattica che non di costruzione base del portafoglio, provo a spiegarmi, l'attività di regolamentazione dei mercati sta imponendo sempre di più agli intermediari di investire in green bond. Probabilmente si andrà ad imporre agli intermediari di rendicontare, inizialmente rendicontare qual è la percentuale dei propri investimenti che è stato investito in green bond, quindi a ogni cliente, ogni anno bisognerà dire il 20% del tuo portafoglio è stato investito in green bond o ISG, quindi diciamo sostenibili, sotto l'ombrello di sostenibili. Poi probabilmente si andrà anche nella direzione di imporre, tra virgolette, agli intermediari di investire una parte del proprio patrimonio, del patrimonio dei propri clienti, in emissioni obbligazionarie o in azioni ISG. Per cui anche questo in chiave tattica può essere interessante, approfittare delle nuove emissioni nell'ottica che comunque gli intermediari si dovranno portare avanti e andranno a comprare quelle obbligazioni in emissione per avere una quota di ISG in portafoglio o di green bond in portafoglio può essere interessante, può essere interessante in chiave tattica anche magari prenderlo all'emissione e poi rivenderlo nel caso salisse il prezzo nei due o tre mesi successivi. È successo spesso l'anno scorso, è un mercato in forte crescita, gli emittenti che emettono green bond stanno quasi raddoppiando, l'anno scorso le emissioni di green bond sono quasi raddoppiate rispetto all'anno precedente. Quindi come prossime sfide possiamo vedere un po' questo tipo di prodotti. Sì, assolutamente. Anche in questo caso si può andare su single bond e si può andare invece su prodotti come ETF che investono in questa asset class. Il problema dei single bond ovviamente è che bisogna avere un patrimonio abbastanza consistente perché le nuove emissioni sono tutte con taglio minimo a 100.000 per cui per avere una decente diversificazione di portafoglio serve un patrimonio di certo tipo. Per cui l'aspetto di bond in un portafoglio idealmente bilanciato a mio modo di vedere deve essere giocato un po' su questi temi e poi durante l'anno si vedrà quali temi usciranno, sicuramente succederà qualcosa durante l'anno per cui delle opportunità il mercato te lo darà. Sul fronte azionario a mio modo di vedere dicevo magari ridurre un pochettino il sovrappeso Stati Uniti, favorire un pochettino il mercato europeo e magari giocarsi qualcosa in termini di stile di investimento. Come dicevo prima, il Nasdaq ha avuto una over performance rispetto a tutti gli altri indicatori, rispetto agli altri indici, il che vuol dire che il mercato growth è salito molto. Come stile di investimento, lo stile growth l'anno scorso è salito molto. È salito molto in realtà più per i flussi che non per reale convinzione degli investitori. Cioè quando la banca centrale si dimostrava ogni volta molto accomodante nei confronti del mercato, aumentava la liquidità disponibile e la cosa più facile, più veloce da fare per un investitore istituzionale che deve spostare magari tanti soldi era quella di andarsi a comprare l'indice senza neanche andare a fare stock selection o selezionare i singoli titoli. Questo ha portato a una sovra performance degli indici principali tra cui il Nasdaq l'ha fatto da padrone e una sotto performance in realtà relativa degli indici su azioni small o mid cap sia in Europa che negli Stati Uniti. Proprio per una questione di flussi. Di nuovo l'anno scorso è stato un anno guidato molto dai flussi. Questo in realtà è uno degli effetti collaterali dell'interventismo del banca centrale. Per cui in termini di stili di investimento lo stile value l'anno scorso è andato molto male. Quello che idealmente alla Warren Buffett andava a selezionare i singoli titoli o le singole aziende visto che parliamo di Buffett delle singole aziende in funzione del price of earning o della reddita dell'azione si è visto penalizzato da questi flussi. Il value ha sottoperformato ha fatto 20% contro il 35% del growth per cui può essere una buona idea inserire come stile di investimento il value in portafoglio per la parte azionaria. Bene, vedremo quest'anno allora. Assolutamente, vedremo e sarà un anno sicuramente sfidante. Questo è sicuro. Perfetto, siamo arrivati al termine della nostra puntata. Ringrazio molto Claudio Campesi responsabile investimenti di SCM Sim e arrivederci a tutti alla prossima puntata di Asset Management qui su Le Fonti TV. Oggi rup ensuring Grazie a tutti.